Sì, lo so che cosa state pensando. Mi laverò le mani e alle volte ce ne dimentichiamo. Invece, più spesso le laviamo, meno rischiamo di prendere il virus o di passarlo ad altri. Bisogna lavarle bene per un minuto con acqua e sapone. Se non ci sono, usate un gel a base alcolica. Per altre informazioni, consultate il sito del Ministero della Salute. Grazie.